L'indicatore accumulator e brake pressure chiamato anche triple pressure indicator viene utilizzato solamente per indicare il sistema di frenata in modalità alternata o per la frenata usata con il sistema idraulico giallo Y. Il freno di stazionamento usa proprio il sistema giallo e quando viene inserito la valvola selettrice del freno di stazionamento VBS e LV si apre consentendo alla pressione idraulica di applicare i freni e mantenere il velivolo nella sua posizione di parcheggio. Nota questo è l'esatto motivo per cui durante l'avviamento dei motori viene acceso prima il motore numero 2 se il single engine taxi non è richiesto. Inoltre ogni volta che viene inserito il freno di stazionamento viene sempre verificato il triple pressure indicator per verificare che il sistema frenante sia attivo. Come puoi ben notare in questo momento il freno di stazionamento è inserito con una pressione più che sufficiente per mantenere attivi i freni. Perché è molto importante controllare la pressione dei freni? È necessario controllare i due indicatori dopo che la leva del freno di stazionamento è stata impostata su ON e prima di rilasciare i pedali del freno. Questo perché evita un movimento imprevisto dell'aeromobile con conseguenti potenziali lesioni o danni significativi in caso di collisione con ostacoli a terra. La lancetta più in alto indica la pressione disponibile nell'accumulatore del sistema giallo dedicato ai freni. L'accumulatore è un'unità che viene pressurizzata automaticamente dal sistema idraulico associato quando i motori dell'aereo sono in funzione. Può anche essere pressurizzato o ricaricato manualmente attraverso la pompa elettrica gialla. Se il sistema idraulico verde e giallo si guastano, la frenata alternativa è fornita solo da questo accumulatore per i freni. Esso è progettato per fornire pressione sufficiente per almeno sette applicazioni complete. Proprio come stiamo facendo in questo momento Le ultime due lancette invece misurano la pressione del sistema giallo erogata ai freni del carrello principale di destra e di sinistra misurata a monte delle servovalvole. Normalmente è l'impianto idraulico verde che fornisce pressione ai freni in modalità normale. Detto ciò, la pressione dei freni è indicata solo quando il sistema idraulico giallo controlla la pressione dei freni, cioè quando si attiva il sistema di frenata in modalità alternata, oppure se il freno di stazionamento viene inserito. Ricapitolando, la A320 possiede due modalità di frenata, Normal Braking e Alternate Braking. Nel secondo caso, l'impianto idraulico giallo fornisce automaticamente azione frenante in modalità alternata. Questo accade quando la pressione idraulica verde è insufficiente, l'alimentazione elettrica è interrotta, entrambi i BSQ sono guasti oppure se l'interruttore anti-skid e nose wheel steering è selezionato su OFF. Nota, negli ultimi tre casi, la frenata alternativa è disponibile ma senza l'antislittamento. In base alla richiesta dai pedali dei freni, la BICU controlla la pressione che passa attraverso la servovalvola DDV o Direct Drive Valve. Poiché l'antislittamento non è disponibile, per evitare il bloccaggio delle ruote e limitare il rischio di scoppio degli pneumatici, la pressione dei freni è automaticamente limitata a 1000 psi. Un'altra cosa interessante è quando il carrello viene abbassato e bloccato in posizione down, il sistema esegue automaticamente un test dei freni in cui si possono vedere gli indicatori brake pressure fluttuare alcune volte. Questo potrebbe dare in rari casi origine a pressioni residue nei freni. Inoltre, quando si premono più volte i pedali del freno, si è in grado di controllare se la valvola di distribuzione DDV del freno alternato si sta effettivamente aprendo come richiesto dalla BICU. Questo per accertare che in caso di guasto del sistema di frenata in modalità normale, essa funzioni correttamente con i pedali. Nel caso si verificasse una frenata residua o asimmetrica, il QRH fornisce la seguente procedura per la risoluzione del problema. Di seguito puoi notare la lista delle attrezzature alimentate elettricamente dagli specifici bus dell'aereo.